Buon pomeriggio ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Devo iniziare a pubblicare perché devo arrivare almeno a 4.000 ore, quindi normalmente più contenuti si fanno e meglio è. Il contenuto di oggi è la mia sulle tre partite che rimangono di oggi, le mondiali. Allora, Polonia e Arabia Saudita. Andando a vedere i testa a testa delle ultime partite rispettive della Polonia e dell'Arabia Saudita, la Polonia ha più risultati positivi e l'Arabia Saudita che adesso è incentivata sia dal fatto che ha vinto contro l'Argentina e sia dal fatto che gli sceicchi, dopo che ha battuto l'Argentina, hanno regalato a ogni giocatore dell'Arabia Saudita una Rolls Royce del valore di 500.000 euro, quindi praticamente questi sceicchi hanno speso un totale di 13 milioni per comprare 26 Rolls Royce, che non è poco. Io penso che sia possibile anche che l'Arabia Saudita possa vincere. Non è detto che perda, è possibile anche una vittoria. Quindi io dico o 2 o over 1,5 questa partita. Difficile over 2,5. Poi, l'altra partita è Francia-Danimarca. Non c'è che da, diciamo, neanche andare a vedere, che io credo che vincerà proprio la Francia a questa partita. Però, per sicurezza andiamo a rivedere. Le ultime partite della Francia sono state Francia-Australia 4 a 1, Danimarca-Francia 2 a 0, c'era vinto la Danimarca, Francia-Austria 2 a 0, Francia-Croazia 1 a 0 per la Croazia, Austria-Francia 1 a 1. Io penso che la Francia non abbia problemi nel vincere. Però ci sono molti risultati che mostrano che la Danimarca ha vinto con la Francia in passato. Però è un risultato a sorpresa. Io direi 1 o gol. Oppure over 2,5. E andiamo con l'ultima. L'Argentina si deve riscattare dal risultato negativo dell'ultima partita, appunto, con l'Arabia Saudita. Andiamo a vedere in tanto di testa a testa. Emirati Arabi Uniti, Argentina 0 a 5. Argentina-Giamaica 3 a 0. Argentina-Honduras 3 a 0. Argentina-Estonia 5 a 0. E il Messico, invece, ha quasi sempre perso, tranne con squadre più scarse, come l'Iraq e il Peru. E invece nelle partite passate, l'Argentina ha sempre vinto, tranne in un'occasione in cui c'è stata Argentina-Messico 2 a 2. E invece le restanti partite che ha incontrato il Messico, Argentina 4 a 0. 2 a 0, 2 a 0 e 3 a 1. Quindi io direi o over 2,5 sta partita, oppure gollo over, io direi, per non sbilanciarmi né nel fatto che vince l'Argentina e né che vince il Messico. Quindi o gollo over, che vuol dire che entrambe le squadre segnano, oppure finisce 3 a 0 minimo, oppure, come dicevo, over 2 e mezzo. Cioè che in tutta la partita ci saranno 3 gol. 2 a 1, 1 a 2, 2 a 2, eccetera. E niente, questa è la mia su queste partite, anche se questo mondiale ha portato parecchie sorprese. Contenuto bonus! Allora vi dirò anche i possibili risultati di Parma-Modena e Pisa-Ternana della serie B. Parma-Modena, secondo me è una partita pari merito, ci potrebbe essere un bel gol, lì. Cioè nel senso che entrambe le squadre segneranno. E Pisa-Ternana 1x o over 1,5. Andando proprio sul sicuro, eh. E niente. Va, vorrei azzardare al massimo, proprio mi voglio sbilanciare. Risultato esatto di Parma-Modena, 1 a 1, 1 a 2. Vedremo come andrà a finire. Per oggi è tutto, al prossimo video. Mi raccomando, domani per chi è di Pescara, andate a vedere Pescara-Cadanzaro, eh. Che, insomma, il Pescara ha bisogno di sostegno. Con una squadra così forte, diciamo. Alla prossima!